Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Rama, Hare Hare. tra un quarto d'ora saremo in via Val Petrosa attraversa qui a Milano vicino al Duomo e parleremo proprio di questo mantra, dello yoga, il benessere interiore la vera felicità, la vera serenità che si trova dentro di noi venireci a provare tutto il gratuito Hare Krishna Grazie 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 Grazie